Castelvecchio su Beco per due giorni al centro di un'iniziativa che unisce sport e ambiente. Si tratta della seconda edizione dell'Enecta Bike Tour che è partita oggi per attraversare in bicicletta paesaggi unici e suggestivi. Prima dello start ufficiale c'è stata una passeggiata che ha raggiunto il campo di Castelvecchio dove viene coltivata la canapa che, estendendosi per otto ettani di terreno, e tra i più grandi d'Italia. L'iniziativa viene infatti organizzata per far conoscere il mondo della cannabis al fine di abbattere i pregiudizi ed è organizzata dall'azienda italo-olandese Enecta che dal 2017 ha deciso di investire in Valle Subequana con la creazione appunto del campo di canapa. Naturalmente tutto autorizzato, tutto regolare e questi sono i ciclisti che oggi stanno facendo questa manifestazione per poi raggiungere Passo Godi, sono stare lì a Passo Godi per ripartire domani attraverso una zona del Parco Nazionale d'Abruzzo per arrivare di nuovo a Castelvecchio Subeco. Come spiegato dalla voce del sindaco di Castelvecchio Subeco Pietro Salutari, si tratta di un bel giro fino a Passo Godi con il rientro domani dopo aver ammirato gli scenari del Parco Nazionale d'Abruzzo. Terminata la parte agonistica ci sarà quella dedicata alla riflessione con un convegno alle 17.30 nella Sala Padre Pio con esperti del settore che parleranno della canapa quale risorsa di un territorio che guarda al futuro.